Eeeh, ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo prossimo video dei Minecraft Vanilla raga Allora, come ricordate abbiamo fatto questo piccolo bunker, cioè bunker, questa piccola casetta Abbiamo messo due torce ed eccoci qua Ora, io cosa vorrei fare in questo episodio? O vorrei andare in caverna, oppure vorrei cominciare a costruire la casa Però secondo me cosa spiussaggia è cominciare a andare in caverna Perché altrimenti è inutile ora Quindi facciamoci, mettiamo a cuocere sta roba Ad l'altro qui c'è il carbone che andrà a prendere subito Perché il carbone come sapete serve per fare le torce E a noi servono le torce Tra l'altro raga, fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie Perché ora, beh, ora all'inizio non c'è ancora nulla da farvi vedere Però fatemi sapere se vi piace come la porto io la serie Fatemi sapere più o meno cosa ne pensate No raga, ho cambiato idea, andiamo a far lì la casa Non so raga, non so nemmeno io dove fare la casa Secondo me ci sta tantissimo lì sopra, eh Andiamo a dare un'occhiata prima che si fa notte Cerchiamo di non perderci, magari mettiamo la torcetta qui, va Raga, guardate questi in senatura Ditemi se non è figo fare tipo una casa qui in mezzo Con tutte queste mura che ci coprono Direi che è spettacolare come cosa O la facciamo qui la casa oppure sopra raga Non so, dovete citare anche voi nei commenti questa Perché io sono veramente indeciso Devo fare il parkour Per salirci Se abbiamo poco spazio non possiamo fare niente A dire la verità lo spazio non è poco Qui sopra magari facciamo una torre qualcosa Ma qui giù Veramente è un bel posto Cioè fare la casa qui in mezzo con tutte queste montagne intorno Che magari poi ci facciamo qualche torre in giro Secondo me ci sta Veramente è bello Abbiamo una zona desertica Abbiamo tutta questa zona che possiamo ripulire È giudicato raga Non lo so raga, non lo so nemmeno io Dove fare sta casa Datemi una mano qua nei commenti raga Fatemi sapere un po' Se vi piace più farla qui in mezzo A queste collinette O dove eravamo prima Che c'è tipo tutta una pianura Con un paio di collinette di qua e di là Hai lasciato l'uovo Brava Dammi le uova Bravissime galline Torniamo alla base Dovrebbe essere da questa parte la base E si è messo anche a piovere così all'improvviso Eccoci qua Ora dormiamo un attimo e ci andiamo in miniera Perché non è l'episodio per fare la casa Appunto ho fatto questo episodio anche per Decidere insieme dove fare la casa Così almeno mi date dei consigli voi nei commenti Io lo metterò a cuocere un po' di sta carne E visto che Ok non piove più Andiamo in miniera Speriamo di trovare una miniera qui vicino Col cibo penso che siamo messi abbastanza bene Ora Questa pianta la mettiamo tipo fuori la porta Così perché ci sta Andiamo a cercare una bella miniera Io metto una torcia ogni tanto Così da non perderci La zona desertica è un po' È un po' È abbastanza carina dai Ciao pesciolini Ciao Come va la vita Come va la vita Se va davanti e bello Tra il mio punto di dice Che è una cosa veramente bellissima questa Ok qua sembra esserci un bel bucone di caverna Agliatoni Se coglione Dopo andiamo qua Dopo andiamo a fare anche sto ferro Andiamo a prendere tutte queste cose Lo vogliamo vedere Oh cani da zucchero che sono comode Anche il caccoso me lo prendo Tutte cose che all'inizio possono servire C'è una fonte di lava così A caso Vabbè noi buttiamoci qua Andiamo all'avventura Vediamo cosa succede Qui non c'è niente Però c'è del carbone che lo prendo volentieri Qui sembra scendere Salve Io sono nuovo qui Quindi State buoni Nessuno si incazza Ah vedete che è scelta il ferro Se scavi il Il carbone Andiamo subito a cuocere sto ferro Perché Abbiamo bisogno di un piccone più decente Raga Da sta parte Eppure si scende Si scende anche tanto A quanto pare Vabbè raga Noi ci mettiamo il salto ferro che abbiamo qua E lo andiamo a mettere a cuocere anche questo E poi io scenderei ancora più profondo Vediamo cosa Cosa possiamo trovare Ecco qua Piccone Fatto Finalmente Poi salti qua Ci facciamo una spada Perfetto Allora Ultimo pezzo cotto Smontiamo tutto qui Portiamocelo con noi E andiamo raga Vediamo un po' Bio Dio raga Come non sono morto Non lo so Per qualche bug strano Non sono morto Facciamo finta Non è successo niente Forse era qui Sitti che forse Era questa Speriamo di si Dimmi di si Ti prego Si ok Questa Prima ho detto Facciamoci un secchio d'acqua Che potrebbe servire E infatti In questo caso Poteva servirci Ancora ci sono creeper Raga Non è finita Salve signor creeper Il suo amico Prima mi ha fatto esplodere Lo sa lei? Ma io ho altro ferro Che non ho utilizzato In tutto questo raga E sono scemo io Ce lo facciamo Un secchio d'acqua Ma giusto per essere Un po' più Tranquilli Appena c'è una fonte d'acqua Ce lo mettiamo Un secchio d'acqua In saccoccia Prendi l'ascia Anzi facciamoci il cappellino Con questo Siamo un po' più protetti Almeno Allora il signor creeper Non so dove si è andato Ma Vorrei levarmelo dalle palle Salve signor creeper Vuole esplodere Cosa vuole fare nella vita? Eh Ecco Ci siamo tolti dalle palle Tra l'altro Sta caverna È enorme Abbiamo trovato Una bella caverna Una cosa molto Che sono Abbastanza felice Di sta cosa No raga Non ci credo Una mineshaft Stai scherzando Vero? Raga Sto episodio Si prolungherà Veramente tanto Io Dovevo tagliare parecchio Sto episodio Veramente Dovevo tagliare Tanta tanta roba Qua torniamo a belli cariche A casa Belli belli cariche Buono perché Così almeno iniziamo A costruire A fare cose Perché Andare in miniera A me mi piace Però Non mi piace registrare Quando andare in miniera Quindi fatemi sapere Voi nei commenti Se vi va Che vi registro Queste cose così Quando andate in miniera Oppure magari Lo facciamo in live Non lo so Fatemi sapere Se vi va bene Io vorrei fare un segno Più o meno Per far capire Dove è la mineshaft Perché non vorrei perderla E Un attimo Andate a vedere Sta zona qui Voglio andare Ti mando un occhio A parte c'è Altra roba mia Qua Beh dettagli Qui sembra continuare Raga È infinita Sta roba Tipo che dimmi Che finisce Perché Ah Salve signor enderman No raga Lasciamo stare L'enderman Che è meglio va Non facciamoli incazzare Ci come ne farci A meno full ferro Per andare lì sotto Perché la mineshaft È veramente Una cosa abbastanza pericolosa Da affrontare Al secondo episodio Chi se l'aspettare Dove una mineshaft Così a caso raga Non me lo sarei mai aspettato Ok raga Ho messo a cuocere Tutto il ferro Che avevo Quindi Bel po' di ferro Cioè Quasi uno stack di ferro Effettivamente Uno stack di ferro Raga Non è poca roba E ci facciamo anche Il resto dell'armatura Che ci mancano I piedini E il pantalone Era qui giusto Si era qui Salve Salve Oh c'è anche una cestra Ma che culo oggi C'è una cestra C'è anche della lavase Per questo Quindi stiamo molto attenti Per favore Cerchiamo di non morirci subito Cerchiamo di non morirci subito Infatti io sono abituato Alla 1.8 Non alla 1.13 Tony E sei in 1.13 Quindi non dimenticarlo Potrei farmi anche un arco In questo momento Me lo faccio anche un attimo Tanto non ci costa niente Vediamo un po' qui cosa c'è Oh Già una name tag raga Pezzi di pane A per le ruote non ci servono Già abbiamo una name tag Tanta roba Oh un'altra cesta Lapis Tanta roba Lapis Torce Un'altra name tag Raga Fortunatissimi oggi Io volevo farmi un letto Per dormire qua vicino Che magari se Se ci muoio Cosa molto probabile Ma abbiamo anche dell'oro lì Che vado a piare subito Sbloccano tutte le ricette del gioco No 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 Ti prego ti prego ti prego ti prego Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire No raga dai Devo fare tutto da capo Non ci credo Non ti capisco Dove devo arrivare io di nuovo Cioè non è proprio lontano Però capitemi Si vede che è la mia prima survival Su pc La faccio veramente cacare Ma veramente cacare Assolutamente non avevo diamanti Non avevo niente di che Cioè avevo soltanto Una name tag Cacchio Una name tag Cioè avevo veramente del tempo Per farle E tra l'altro Non so se funziona ancora La fama di pesca Se vorrei rifarle Questo non lo so So soltanto che ho perso Un bel po' di roba Nella lava è sicura Andato qualcosa Volevo salvarmi Volevo salvarmi Dovevo chiudermi Secondo me Se mi chiudevo Facevo la miglior cosa Però non ci ho pensato Mannaggia a me C'è ancora l'acqua Vero? Si No ma dai Ma ce l'avete con me oggi? Cosa vi ho fatto di male oggi? Ve lo spiegate Cosa vi ho fatto di male? Io non mi ricordo Dove sono andato ora? Di qua sono andato? No Di qua nemmeno Giù? Si E' lì che sono caduto io Salve signor scheletro Lei cosa vuole Dalla mia vita? No Lasciami stare Lasciami Stare Oggi spaccheremo qualcosa Vaffanculo Pianta di merda Andate a fangolo tutti quanti Vaffanculo anche te E perchè sto laggando? Eccoci qua Per l'ennesima volta A recuperare la roba Torniamo indietro Questo doveva essere Un episodio Di mining Tranquillo Cosa che non riesco a fare Ora mi chiudo un attimo Scusate eh Non ha più niente raga Che bello Le name intag ce l'abbiamo Avevamo un sacco di roba Non avevamo solo questo Quindi qualcosa è andato Questo è probabile La redson me la piglio Perchè la redson Possiamo fare cose Con la redson Ok E no Io ero quello che voleva fare Un nuovo hc Sai in quanto tempo Ci metto a morire Da un creeper io Pochissimo Senza incazzarci Ora riprendiamo Tutte le nostre cose Se la finisse di cascare Creeper Come se fosse tipo pioggia Magari siamo più tranquilli Andrò a finire Con qualcosa nella lava Sicuramente Dobbiamo fare soltanto L'arco E il legno Perfetto Non possiamo craftare le cose Se non abbiamo le Che culo Questo è culo raga Lo ammetto Questo è culo Voglio fare di nuovo L'arco perchè Con sti creeper Dobbiamo andare A forza di arco Ma io sono Ma io poi Dico io Io sono in un punto 13 Mettiamoci le torce Ah vedi Abbiamo le torce Da quest'altro lato Perchè non le metto Andiamoci quest'acqua Possiamo di non morirci più Di trovare magari Qualche diamante Che altezza siamo Siamo a 13 Quindi L'altezza ci siamo Anche dell'oro Molto buono Mettiamo un bel po' D'acqua qui Oh Ma salve Signor diamantino Salve E uno solo Serio Due Raga ma La sfiga oggi Cosa vuole dammi la sfiga oggi Tre diamanti raga Tre diamanti Portati a casa Buono 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 Abbiamo già il piccolo indiamante Raga volendo Uno Due E tre Portati a casa Era questo il mio obiettivo Di questo episodio L'abbiamo raggiunto Possiamo anche chiudere L'episodio qui Ora Non dobbiamo morirci Assolutamente Raga Non dobbiamo morire Però io vorrei tornare Alla mineshaft Se la trovo Eccola qui La mineshaft Era da sta parte Mettiamo un secchio d'acqua Qui per favore Grazie mille Atto non è meno legno Quindi vediamo un po' di legno Da qua Da lì siamo già stati Poi andiamo da sto lato Lì c'è anche un creeper Se è per questo Salve signor creeper Esplodi Dai Bravissimo Esplodi anche te Quanta gente E quanto è grande Raga sta cosa Veramente enorme Guarda qui quanto ferro Guarda quanto carbone Tanta tanta Troppa roba Salve Cos'è questa La stanza Dei desideri Quanto è enorme Raga sto posto Quanto Troppo enorme Da esplorare Tutto quanto ora C'è anche lo spune Di ragni qua Molto bene Oh una cesta Oh quanta roba Tanta tanta roba Una mela d'oro Mi ricordo che sull'xbox Era molto più piccolo E ci mette veramente un casino Immagino qui Immagino veramente qui Il tempo che ci metterà A esplorare Tutto a sto posto Ah dice C'è malab... Oh cacchio raga No 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 Chiudi 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 Sei calmo Non ti permette di farmi morire così Mi incazzo Ora ho trovato anche il diamante Mi incazzo ancora di più Oh Jackpot baby Jackpot Raga Questo è un bel jackpot eh Questo è veramente un bel jackpot Però Sai com'è Io mi chiudo un attimo dentro Perché mentre scavo Non voglio né creeper Né scheletri Né mini zombie Voglio stare io E il mio diamante Quindi fatemi stare belli tranquilli Chiudi anche quest'acqua che c'è qui Peccato che non ho fortuna raga Peccato Però vabbè sti cazzi Nel senso Sono i primi diamanti Sono tre Quattro Se lasciare la lava dietro Mi incazzavo Quattro Tipo uscire un creeper Cinque Sei diamanti raga Sei diamanti Che in totale fanno nove diamanti Quindi possiamo fare sia l'enchant E sia piccone O pezzo d'armatura O spada Poi vedremo questo Però GG Bella vena di diamanti Abbiamo trovato Sono contento così Ho un bel po' di ferro Ho un bel po' di oro Abbiamo lapis Abbiamo redson Abbiamo diamanti Abbiamo un po' tutto raga Quindi potrei anche iniziare a salire Ma rifacciamo un piccone di diamanti Prendo un po' Codossidiana Perché non so quante ne ho sopra Affinché dopo non possiamo fare il Il cacchio di coso là Come si chiama L'enchant Prendo un po' di diamanti Raga Fatto Allora Raga Piesce sotto C'è della lava A quanto pare no Quindi siamo belli tranquilli Noi ci mettiamo qua Scaviamo i nostri pezzetti Le prendo giusto Quattro cinque Poi ce ne possiamo anche andare Guarda un po' a me Cosa mi tocca fare Per salire sopra Eccolo L'ho visto No no Via 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 Andiamo da quest'altra parte Saliamo normale Raga terra Ci siamo Libertà Sì E anche giorno raga Finalmente un po' di fortuna Finalmente un po' di fortuna Raga Oh che benessere No quanto è bella Raga sta grotta qui Sa qui tipo a natale Facciamo la grotta Dei bambini Gesù Dove è la mia casa Eccola qui La mia dimora Via Entra Dormi Perfetto Uno due tre Quattro Quattro volte sono morto In quella miniera Merda Siamo sedi Anche qua fuori Inizia a rompere le palle Ma cosa volete ancora da me Basta Andate via Lasciatemi stare Va bene raga Penso che possiamo concludere qua L'episodio di oggi Che è stato veramente Lunghissimo Quindi Buona fortuna a me Per l'editing Spero che vi sia piaciuto L'episodio di mining So che non piace a tutti Non piace a tutti L'episodio di mining Però ci voleva perché comunque Siamo messi un po' meglio ora L'attrezzatura Armatura Siamo un po' messi meglio E ci sta raga Fate sapere nei commenti Se voi la casa la preferite In questa zona qui Che stiamo adesso Oppure in quella zona Che abbiamo visto prima Dove c'era tipo quelle mura Fatti a montagna intorno Sono pure figo Però qua Pure mi piace Un po' più Ambiente diciamo Classico Mi piace a me Quindi raga Io spero Vi piaciuto Un'acquanto Sciendo un pollice in su Noi ci vediamo Nel prossimo video Quinto gnalo Bella Ciao 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 Ciao